secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie non ci sono no però dai cazzo scende vago dai dai si si a breve lavoriamo per il settimana prossima sconto di andarmene al posto di fu ma se troviamo a luogo i giorni volendo eh si 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 se tu stiamo stasettimana mi arriva la roba spedì cioè poi penso lunedì allora tu sei da me stavo dicendo grazie mille a ciccio mondo 2,98 per i 11 minuti riesci a scendere oddio mamma mia collega 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 hanno buttato sotto il collega eh chiedo rinforzi all'incidente hanno buttato sotto il collega ripeto c'è stato un pirata della strada che ha buttato sotto il collega ma è impazzito lei non vede l'auto della polizia scusi ma non ha visto l'auto della polizia perché corre così ha buttato sotto due civili di cui un agente lo so mi occupo un'acqua non è un avventura non è un'acqua ma non è un'acqua ma è un'acqua ma è un'acqua berri milano napoli che passo da formia quindi 9 ore di treno mi sono subito 9 ore di treno una volta 12 ore di treno mi sono subito perché il treno è deragliato tipo il 3 giugno a roma adesso ne capite una tarantella la tarantella proprio leone nero è quello che ha riscattato leone nero e tavola solo perché da non perché perché mamma mia domani amore mamma mia mamma mia è buona ragazzo bella pepe si e frittatino frittatino no 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 fa schifo il sushi, fa schifo il sushi, fa schifo, lippate, lippate il voto, la parola è semplicissima, amio si dice amio, 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 potresti migliorare continuiamo con la prossima parola, alunna si dice, alunna, dai dai, già meglio, ti aspetto alla prossima lezione, buongiorno alunno, ma è pulita, che cosa è pulita, cosa è pulita, la merda, la merda è sempre sporca la merda, ma che è? Oh no puoi dedicare un bestemmione ad axiliti con la tosta, la spiaggia con il condizionatore è un'altra cosa ragazzi, eh, devo dire che sono un fottutissimo genio un uomo che non si fremerà mai, e questo è il maestro, un uomo che non si fremerà mai, c'è Riccio che è l'artista, fa la mista, da prepara a questa canna, c'è anche Joseph Cicalone, Vulcan Boom, c'è anche Momo, Momo qua, Momo di là, c'è anche Dutti Soul, Nikogen911, Tubstone, PaoloYoutube, c'è Vampiro26, quelle di Guard e c'è... ehm... buh... ho un terra allo stesso, ho caduto al culo per terra, buh... eh è diventato uno sgabello, è diventato... è diventato uno sgabello... ma... che seria perchè abbiamo appena iniziato, comunque erano 11 mesi... c'è... c'è, 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 ma che cazzo è stato a dir... e poi mi dite perchè devo... perchè non devo venire a Napoli, perchè, perchè... dite perchè non devo guardare questo io... un anno che non facevo un video a Napoli, mi mancava, oltre perchè si mangia benissimo, proprio perchè succede tutto, raga, la gente...